Quest'estate i pianellesi avranno una nuova piscina. Sta infatti per concludersi il corposo intervento che ha portato alla demolizione delle vecchie vasche, costruite oltre 40 anni fa. Al loro posto ne sono state costruite una semiolimpionica con un'altezza variabile da 1,20 m a 2 m e una per i più piccoli alta mezzo metro. Il tutto servito da un moderno impianto di depurazione al cloro. I lavori del primo lotto prevedono la demolizione completa della vecchia piscina comunale che era stata costruita nel 1974 dalla Proloco di Pianello. È da sottolineare che l'impianto è fatto con depurazione al cloro perché questo consente un maggior controllo delle acque. Questo primo lotto lavori finisce a maggio e l'importo è di 250.000 euro. Entro giugno il comune dovrà trovare un nuovo gestore in grado di condurre l'impianto e nel frattempo partirà la programmazione di un secondo ed un terzo lotto di lavori per la costruzione di un nuovo ingresso e area bar che saranno spostati verso il vicino campo sportivo e poi di nuovi spogliatoi. Quelli attuali sono infatti provvisori. Vennero realizzati dopo che i vecchi erano andati a fuoco. Per il secondo lotto è prevista la costruzione del nuovo bar Reception che avrà un importo di 250.000 euro. Il terzo lotto invece che è previsto a seguire è la costruzione dei nuovi spogliatoi.